La medicina. Io sono fermo e ve lo dico. Non è bello. Scusate, ma se non possiamo venire un piede indietro? Volentieri, grazie. Ragazzi, però se non venite indietro, allora voi non ci provate. No, no, facciamo un metro indietro. Renato, tiro giù. Se non venire indietro, noi la facciamo tutti. Scendo dall'altra parte, vedete? Eh, vabbè, questo scenderà da loro voi. Sì, stai ritrovando. L'importante è riuscire. Perfetto, perfetto. Grazie. 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 Se volete mandarci in diretta è arrivata l'agosto. C'è pratica, c'è confusione, c'è confusione con la signora che sta scendendo, è manettata, è manettata, indossa una giacca bianca, sotto c'è una t-shirt azzurra con i jeans. Occhiali neri, occhiali neri.